Buonasera, piacere, qua raduno, se vuoi test ride, si potrebbe pensare di fare qualcosa vediamo posso farci una foto? Sì dobbiamo, grazie ah col casco? tanto non sono una figlia che ti deve giudicare, guarda che messicano, ma sei un messicano davvero buona serata, ciao ci vediamo, voi si possono sentire due sghiacciate della verdona? eccolo per disturbare le persone che dormono si, se non sbaglio, ma la soppia a che esce? a che esce no sai sei proprio un min***o che in rotone vai tanto il figo dopo di me di c***o adesso proveremo questo chiodo è difficile aiutare difficile nelle curve così non va forza a questa moto sembra un Harley bella questa grondaia vero che due è c***o a peggio ho tipo perso due timpani per fare questa cosa qua però ne è valso la pena dai oh vecchio canestro a bambino si va in scena mi comparo queste nuove leve che sono tipo strafighe cioè si possono sia piegare tipo se cadi e anche regolare cioè tu puoi regolare quanto lontano stanno dal coso strafighe a 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.